YOLANDA SWITZ colla perché do un po' che non ne faccio uno e sono tornata con nuovissime ricette con nuovi prodotti in realtà che voglio provare con voi perché ho comprato delle cose nuove e voglio vedere se funzionano per fare gli slime senza colla ma prima di iniziare questo video siate buoni perché a Natale si è tutti più buoni lasciate un bel pollice in su iscrivetevi ed attivate la campanella mi raccomando per ricevere tutte quante le mie notifiche e ovviamente like mi raccomando facciamo un bellissimo gioco ecco ditemi tra queste due cose queste due pietanze qual è quella che vi piace di più e vi piacerebbe di più assaggiare o mangiare fatemelo sapere giù nei commenti iniziamo quindi con la prima ricetta allora la prima ricetta che voglio provare insieme a voi è questa vado a prendere del dentifricio questo qua colgate e lo vado a mettere dentro alla mia ciotolina poi prendo dell'acqua e la metto sempre nella ciotola non ne metto tanta un pochino in realtà così cucchiaio e mezzo vado a prendere un frustino e cerco di creare la schiuma abbiamo creato la nostra schiuma bella e super schiumososa schiumososa hashtag schiumososa perfetto adesso quello che ci servirà in questo caso è dello shampoo dello shampoo che è questo qua io vado ad usare questo lo sapete perché ora vi faccio vedere guardate qua quanto è denso cioè per farlo cadere dal mio dito non se ne cade è densissimo quindi ne vado a mettere un pochettino questo è quello che uso io è uno shampoo che uso io e vado a dare una mescolata adesso vado a prendere del sale vado a mettere pochi pizzichi alla volta e inizio a mescolare oh mio dio vedete come si sta solidificando oh mio dio ragazzi vado a fare acqua sale e bicarbonato che faccio sciogliere insieme vado a creare una specie di attivatore però senza addensante cioè capite ok vado a creare questa mistura vado a mescolare quello che ho creato lo faccio dissolvere molto bene e lo vado a mettere dentro al mio shampoo e il mio dentifricio ne metto un pochettino e vado a mescolare io la vado a mettere in frigorifero e poi in congelatore vediamo se funziona vediamolo insieme vado a metterlo e poi alla fine vediamo se funziona o no sapete cosa voglio vedere se da solo questo shampoo funziona guardate quanto è clear fa anche le puzzette vedete quanto è clear non ne voglio consumare tanto cioè guardate sembra veramente la colla ma in realtà non lo è è shampoo mamma mia cioè raga guardate è super gelatinoso ma scherziamo prendiamo il sale e andiamo a mettere solo il sale oh mio dio ma che scherziamo raga sembra colla no vabbè cioè frigorifero e poi congelatore ma adesso un'altra ricetta sempre solo due cose allora schiuma da barba basta e amido di mais ora vediamo un pochettino se solo con questi due ingredienti riusciamo a creare comunque uno slime che sia maneggiabile quindi vediamo un pochettino voi poi mi fate sapere magari scrivetemi giù nei commenti anche delle altre ricette che avete provato voi o che vorreste che io provassi così magari la prossima volta vado a fare le vostre ricette allora prendiamo la schiuma e prendiamo l'amido vediamo se riusciamo a creare una pasta con solo schiuma e amido di mais allora raga dopo aver mescolato bene e aggiunto magari altro schiuma o altro amido di mais quello che dovrebbe uscire è questo allora se vi serve altro amido di mais mettetelo nelle vostre mani e modellate la pasta cioè raga ve lo giuro sembra tipo la porcellana fredda non lo so sembra tipo una clay molto 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 morbida metto per esempio qua l'amido di mais e vado a modellare no vabbè raga cioè ma stiamo scherzando? non ci posso cioè guardate è praticamente un butter slime ma è meravigliosa sta pasta chi lo sa nello slime questa che resa potrebbe avere interessante come cosa comunque ragazzi mi piace tantissimo voto per me questa qua 10 adesso andiamo ad utilizzare invece un'altra ricetta aspettate devo cambiare ciotola perché mi sa che il detersivo che devo utilizzare è uguale alla ciotola per l'appunto giallo quindi ne farò poco allora prendo questa ciotolina piccolina e vado a mettere il mio detersivo che è questo qua all'interno della ciotolina e anche in questo caso vado ad utilizzare il sale facciamo solo in questo modo ragazzi solo col sale vediamo dopo ho una ricetta veramente molto stramba raga bisogna utilizzare lo sciroppo d'acero vabbè prendiamo il sale e uniamolo al detersivo non so se ci spieghiamo guardate la reazione strana che ha avuto il sapone con il sale veramente molto molto strano prendo un altro po' di sale e lo vado ad unire al detersivo ragazzi sta diventando praticamente slime questo qua in realtà finché diventi mi sa vero è proprio slime dovrebbe stare 24 ore in frigorifero secondo me almeno credo però io lo faccio stare diciamo ora un paio d'ore il tempo proprio di registrare un altro video e di prendere questa roba quindi vediamo un po' per il momento lo vado a mettere per l'appunto in frigorifero poi lo metto un quarto d'ora in congelatore perché altrimenti mi si indurisce perché il mio congelatore è molto potente quindi state attenti e vediamo un pochettino se esce proprio slime in questo momento è gelatinoso non si appiccica tanto alle mani vediamo se mi bagno le mani col sale no se mi bagno le mani col sale non si appiccica per niente quindi mi sa che questa ricetta funziona ok vado a mettere in frigorifero ora vediamo un pochettino invece quest'altro perché io con voi sto provando un po' tutti questi prodotti per vedere se funzionano vediamo quest'altro prodotto ne facciamo un pochettino ok vado a mettere anche questo perché non so se quello funziona questo qua funziona sicuro 100% e vediamo un pochettino mescoliamo mescoliamo le due cose insieme e oh mio dio già sembra funzionare spero non fuoriesca niente perché sta ciotola è rotta guardate qua come fa già veramente molto strana sembra già slime oh my god allora vorrei unire ancora di più nel bicarbonato e nell'acqua un po' più di sale sinceramente vado ecco Yolanda però non fare danni mi raccomando vado a diluire bene il sale all'interno di quest'acqua e voglio vedere se con questo mio addensante succede qualcosa perché oddio è diventato un po' più denso ok ne metto poco e vado a mescolare oh mio oh mio dio oh my god ragazzi ma avete visto guardate no vabbè top ok frigorifero poi congelatore vediamo se funziona lasciate la ciotolina sporca beh dettagli proviamo quest'ultima ricetta strana in realtà con lo sciroppo d'acero ne metto poco perché lo sciroppo d'acero in realtà dovrebbe fare reazione con il bicarbonato e con il sale ora vediamo allora prendiamo il bicarbonato dovrebbe funzionare credo l'ho visto da un americano ora non so se era un epic fail oppure no ne metto oddio avete visto cosa ha fatto ne metto poco dentro vediamo e ci metto anche un pizzichino di sale ho un po' paura però noi ci proviamo mescoliamo oddio non sta succedendo assolutamente niente boh mettiamo altro sale ma io lo vedo sempre uguale raga non lo so boh mettiamolo anche questo in frigorifero anche se credo che non serva niente anche perché io già normalmente ce l'ho in frigorifero lo sciroppo d'acero magari in congelatore per vedere se succede qualcosa ma dubito ok ragazzi rieccomi tornata allora è passata un'ora e mezza da in tutto ciò da questa da quando ho registrato il video e sono cambiate un po' di cose oh mio dio sono tipo scioccata da quello che sto vedendo in questo momento allora vi ricordate la pasta questa qua tipo super 10 l'abbiamo vista prima prendiamo l'ultimo che abbiamo fatto sia quello con lo sciroppo d'acero e niente ragazzi niente vi dico solo che si stava congelando in congelatore perché io poi ogni mezz'ora l'andavo a controllare e niente c'è boh non so quindi il video che ha fatto quell'americano era super fail poi la cosa che mi ha scioccato di più ragazzi è stata questa vi ricordate come era trasparente secondo me ha fatto reazione nel congelatore e guardate qua è come se si stesse tipo cioè come se si fosse tipo congelato infatti ha perso la trasparenza poi si è gonfiato ma che è successo non ho capito cosa è successo però non è successo assolutamente niente era meglio prima che lo mettessi in congelatore quindi epic fail questo qua assolutamente ma ho lasciato le due sorprese per ultimo ragazzi perché quello con dentifricio cos'era dentifricio oddio me ne sono dimenticata schiumetta di dentifricio e shampoo e sale cioè raga io sono scioccata guardate qua ora non so se si è oddio si appiccica un botto se si è praticamente congelato si è indurito in congelatore però ragazzi è uscito fuori tipo uno slime che si appiccica nelle mani tantissimo però per giocare così cioè è aiuto è veramente molto 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 strano ora l'ultimo con lo svelto vediamo anche questo fatemi vedere ah aiuto ok sembra slime ma non è sembra slime ma non è vedete per giocarci si scioglie tutto nelle mani praticamente quasi tre ricette su sei vabbè tre su sei ah non è male la media va bene così allora queste erano le mie ricette di slime senza colla suggeritemi le altre giù in un commento fatemi sapere se magari le proverete o quale avete provato fatemi sapere se vi funzionano grazie mille a tutti per aver visto questo video spero che vi sia piaciuto intrattenuto strappato un sorriso come sempre vi voglio bene vi mando un bacio un abbraccio e come sempre ci vediamo domani alle 14 e 30 con un nuovo video bye